You are very welcome to our YouTube channel of Camerata Mandolino Classico, a channel for lovers of baroque and classical music, on YouTube. Benvenuti al nostro canale della musica ed animazioni. Vorremmo presentare musica di Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven e musica francese dal Settecento. Ciao a tutti. Hello, everybody. Buon ascolto. Please enjoy. Io, Anna Maria Legrenzi, cembalista, e il mio collega, Lorenzo Cristiano, mandolinista. Vorremmo suonare il secondo movimento. Il largo del concerto in re maggiore. Del famoso maestro veneziano. Don Antonio Vivaldi. Anche detto il prete rosso. Anna, siamo molto, molto, in ritardo. Anna, abbiamo fretta. Dobbiamo arrivare in tempo per il concerto. È molto importante. Hai capito? C'è il prete rosso al concerto. Don Antonio Vivaldi. Hai capito? È un concerto importantissimo. Non voglio arrivare in ritardo. Sì, sì, sì. Ho capito benissimo. Ma non è la colpa mia. Hai capito? Tu invece, sei sempre lento. Lamenti sempre a me. Ma è spesso la colpa tua. Non. La colpa mia. Sì, sì. Va bene. Tranquilla. Andiamo adesso. Dico per il gondoliere di remare veloce. Velocissimo. Infatto. Il brutto tempo. Merda. Sembra tempesta di mare. Ho paura. Aiutami. Aiuto. Aiuto. Hai visto il fulmine? Sì, sì. Merda. Merda. La gondola è piena d'acqua. Attenta. Temporale. Che brutto. Il cielo è buio. Novole scure. Acqua. Da per tutto. Cosa facciamo? Sta tranquilla. È meglio sedere nella barca. Aiuto. 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 Ho grande. Grande paura. È molto più coloso. Le onde sono grandi. Mai ho visto così grande onde alla laguna. Che cosa fai? Aiutami. Devevo vomitare. Calma. Calma. Siamo in arrivo a Venezia. Fra poco arriviamo. Manca solo 500 metri. Ma anch'io penso che mai ho visto così grande onde. Stranissimo. Veramente. Non si vede Venezia. È nascosto nella nebbia. Ma anch'io penso che non si vede Venezia. Siamo arrivati a Venezia. Siamo arrivati. Ma non vi. In ritardo. perdiamo il concerto silenzio per favore siete molto invitati tutti hanno aspettato più di uno è veramente molto male malissimo secondo me voglio cancellare il concerto ma il pubblico vuole ascoltare la mia musica avete capito si mi dispiace veramente scusi scusi maestro viva scusi scusi maestro vivaldi perdiamo il concerto thank you so much for watching our video you are very welcome to listen to great music by vivaldi bach mozart and beethoven as well as french music from the 18th century see you soon again please have a nice day camarada mandolino classico grazie arrivederci ci vediamo fra poco alla prossima grazie a tutti grazie a tutti